Chi si oppone alla proposta di riforma del sistema giudiziario avanzata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha organizzato un sit-in all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, mentre il capo del governo si apprestava a partire per una visita ufficiale in Germania. I manifestanti hanno esposto cartelle nei quali si esorta Netanyahu a non tornare in patria e lo si definisce un dittatore in fuga. Il Parlamento israeliano ha però già approvato in prima lettura il disegno di legge che, tra le altre cose, consentirebbe al potere legislativo di annullare le sentenze della Corte Suprema. Per farlo basterà un voto a maggioranza semplice. E Netanyahu, il cui governo è sostenuto da partiti ultraortodossi e di estrema destra, ha già fatto sapere di non accettare la proposta di compromesso del Presidente. No, Shiri.